Beatrice Valli è intervenuta su Instagram per aggiornare i fan sulla situazione relativa al Covid. Tutta la famiglia era stata contagiata due settimane fa. Ecco come sta andando. Esattamente due settimane fa Beatrice Valli aveva rivelato a tutti di essere positiva al Covid-19 e con lei tutta la sua famiglia. Ricordiamo che Beatrice è una nota influencer che qualche anno fa è andata a uomini e donne come corteggiatrice e ha conquistato il cuore del tronista Marco Fantini. Da quel momento non si sono più lasciati. Lei aveva già un bambino avuto dal suo ex fidanzato, e poi insieme hanno avuto due bambine. La pandemia ha ritardato le nozze che si erano promessi a Parigi in una romantica cena organizzata a sorpresa da Marco. Ebbene, invece di concedersi una bella vacanza, come avevano intenzione di fare a Forte dei Marmi, tutta la famiglia è in quarantena perché tutti positivi al virus. Ma ecco, a distanza di 15 giorni com'è la situazione. Beatrice, due settimane fa, aveva detto che tutta la famiglia era stata contagiata ma che non avevano particolari problemi. Quello che ne ha risentito di più a livello di salute è stato Marco, ma anche per lui niente di grave. Dopo due settimane di quarantena, tutti hanno ripetuto il test, ma sono ancora tutti positivi. L'influencer ha fatto sapere che, la carica è bassa. Dunque sono vicini alla negativizzazione ma potrebbero volerci ancora sette giorni o di più. Non si può sapere. L'unica cosa che possono fare è ripetere il tampone tra qualche giorno. L'unica che si è negativizzata è la piccola bianca. Per il resto, dunque, devono ancora rimanere chiusi in casa per almeno un'altra settimana. L'ex corteggiatrice ha invitato tutti a non basarsi sul suo racconto, che è un'esperienza personale, ma a chiamare i professionisti e ascoltare tutto quello che dicono senza fare di testa propria.